Sono Laura e sono una delle cofondatrici, nonché presidente dell'associazione di tutela ambientale TerraLab Onlos. TerraLab nasce nel 2019 da questo gruppo di donne accomunate da valore legati alla sostenibilità ambientale che decidono di darsi un'identità per poter portare avanti progetti sul territorio. Infatti la mission della nostra associazione è quella di promuovere stili di vita sostenibili come attraverso il coinvolgimento attivo della comunità sul territorio. Noi siamo a Milano e lavoriamo appunto su questo territorio. Le attività tramite cui cerchiamo di portare avanti la nostra mission sono di vario genere, quindi vanno dalle attività educative nelle scuole per esempio, fino a momenti un po' più leggeri come degli swap parties dove i partecipanti possono scambiarsi bene inutilizzati ma ancora in buono stato proprio per avvicinare la cittadinanza al concetto di riuso, di economia circolare e di seconda mano. Portiamo avanti anche interventi, dibattiti e talk ed è possibile comunque scoprire tutti i nostri progetti sul sito terralab.org oppure seguendo i canali social terralab underscore onlus. Crediamo profondamente, come di fatto penso che sia, che tutto sia interconnesso, quindi qualsiasi nostra azione ha degli effetti e delle ripercussioni in maniera diretta o indiretta sull'ambiente in cui viviamo. Un esempio banale come le nostre scelte di consumo possono avere degli effetti indiretti sull'aria che respiriamo per esempio, così anche qualsiasi nostra azione per dire a livello domestico ha degli effetti sugli ecosistemi amarini. Questa interconnessione tra tutte le cose, quindi tra le nostre scelte, le nostre azioni, l'ecosistema e poi come gli ecosistemi naturali influenzano la vita dell'uomo è proprio uno dei motivi per cui abbiamo scelto di aderire alla campagna 30x30 Italia lanciata da WorldRise. Noi come associazione conosciamo WorldRise da tanto tanto tempo, conosciamo e stimiamo il lavoro di questa associazione che ha un team di persone super dedite alla mission di protezione di salvaguardia dei mari e quindi ci abbiamo messo pochissimo proprio ad affidarci a questo progetto e a prenderne parte attiva. Infatti tramite il nostro lavoro, seppur ci troviamo a Milano che non è una città esattamente sulla costa italiana, comunque sappiamo che le abitudini delle persone possono avere un impatto sugli ecosistemi marini in maniera più o meno indiretta. Quindi sviluppiamo attività sul nostro territorio nell'ambito della campagna 30x30 Italia per sensibilizzare le persone e renderle consapevoli del fatto che i nostri gesti hanno un impatto sugli ecosistemi marini e che possiamo scegliere che tipo di impatto avere. Perché è importante farlo questo? Perché ovunque ci troviamo il mare ci offre dei servizi, come molto banalmente per esempio l'ossigeno che respiriamo, per cui circa il 50% è prodotto dal mare. Quindi come traiamo beneficio dagli ecosistemi marini è nostro dovere e responsabilità prendercene cura. E questo possiamo farlo attraverso qualsiasi gesto, sia che ci troviamo direttamente vicino al mare, sia invece che siamo lontani, come ad esempio può essere una città come Milano. Dunque per conoscere meglio la nostra realtà vi presento un paio di attività che sono quelle che poi portiamo avanti più spesso in maniera anche più regolare. Oltre a incontri e dibattiti verticali su specifiche aree tematiche che però quelli di volta in volta vengono organizzati a spot. Allora una delle attività che riscuotere più successo generalmente sono i workshop di riciclo creativo, ovvero dei momenti in cui diamo vita a scarti domestici, diamo una nuova vita in un'ottica di upcycling, quindi dalla tipologia di scarto lo facciamo diventare un nuovo oggetto utile, non tanto per fare il lavoretto in sé, ma utilizzando il lavoretto come strumento per avvicinare le persone all'ottica di riutilizzo, al cambio di prospettiva nei confronti del rifiuto che può diventare qualcosa di nuovo, tant'è che questi momenti sono sempre accompagnati da talk di approfondimento interattive coinvolgenti, mai esclusivamente frontali, sull'economia circolare e su come l'economia circolare sia un modello economico assolutamente sostenibile che ci auspichiamo possa sostituire il nostro modello di economia attuale che è appunto lineare, che va dalla produzione all'utilizzo alla produzione di rifiuto che sta soffocando il nostro pianeta. Un'altra tipologia di attività che è stata forse la primissima e la più apprezzata e ormai conosciuta sul territorio di Milano sono gli swap parties di TerraLab, ovvero dei momenti in cui tutti i partecipanti arrivano, portano con sé beni inutilizzati ma chiaramente in buono stato, puliti e non rotti, da condividere con altri partecipanti che possono portarsene a casa gratuitamente quanti ne vogliono. Una regola che noi ci siamo date a differenza di altri swap parties è che non c'è un limite numerico, cioè si possono portare tutte le cose che si vogliono e si possono prendere tutte le cose che si vogliono, è anche possibile venire senza niente e prendere basta, perché? Perché il nostro intento è proprio quello di ridare vita a più beni possibile. I beni non scambiati che fine fanno nella discarica? Assolutamente no, generalmente noi di volta in volta prendiamo contatti con diverse associazioni che sul territorio si occupano di persone in stato di bisogno per poter devolvere questi capi di abbigliamento, generalmente capi di abbigliamento seppur negli ultimi swap l'offerta sia ampliata anche a altri oggetti di consumo, quindi dall'accessorio al libro, alle pentole addirittura a utensili da cucina. E dunque queste associazioni che noi contattiamo hanno la possibilità, se lo desiderano, di portare con sé tutti questi beni e rendere loro nuova vita, rendendoli fruibili per persone che magari ne hanno una reale e profonda necessità. Infine un altro progetto di cui siamo profondamente orgogliosi si chiama Refresh ed è un progetto sviluppato in collaborazione con un'altra ONLUS che diciamo che fa esattamente le stesse cose che facciamo noi su un altro territorio che si chiama Inspire ed è un progetto educativo rivolto alle scuole di qualsiasi livello, quindi dalle materne fino anche alle superiori e addirittura alcune università sono state coinvolte e l'anno passato in questo progetto, ovvero progetti educativi legati a stili di vita sostenibili, quindi per accompagnare le nuove generazioni alla scoperta della situazione ambientale, sviluppare una consapevolezza e soprattutto educarle a stili di vita sostenibili. La parte bella di questi progetti è che si svolgono metà indoor e metà outdoor di modo proprio da non rimanere soltanto nella teoria ma arrivare proprio anche alla pratica e ritrovare un contatto spesso perduto purtroppo con la natura, grazie chiaramente al supporto di educatori professionisti che accompagnano i giovani in questi percorsi. L'intento di questo progetto è proprio riuscire a trovare fondi sufficienti per portarlo anche in quegli istituti che magari non hanno un budget a disposizione per questi progetti, di modo da poterlo offrire in maniera gratuita, naturalmente per poter fare questo è indispensabile il supporto di realtà del settore privato o di cittadini che abbiano voglia di investire in questa iniziativa di grandissimo valore, quindi a tal proposito noi stiamo anche in procinto di lanciare un crowdfunding pubblico per chiunque abbia piacere desiderio di supportarci sapendo che prendendo contatti con la nostra associazione è anche possibile adottare una classe e accompagnarla in questo percorso di conoscenza e consapevolezza in relazione alla questione ambientale. So che a volte può essere difficile entrare nell'ottica che ogni nostro gesto, anche il più piccolo, possa fare la differenza, in realtà ciò che noi crediamo è che qualsiasi azione possa avere un impatto enormemente positivo, uno sempre se pensato applicato a un numero di persone molto vasto, due perché agendo in maniera positiva possiamo essere un esempio per le persone che ci circondano, tre perché l'importanza di vivere in linea con i valori che si porta avanti secondo noi è fondamentale, siamo veramente convinti che ognuno possa fare la differenza, questo soprattutto sia per gli effetti diretti dei nostri comportamenti che quelli indiretti come possono essere le nostre scelte in qualità di consumo, come impattano sugli ecosistemi marini, quindi tutto ciò per dire che crediamo veramente che ogni persona con le proprie scelte possa fare la differenza.